Gabriele Frasca è il nuovo presidente della fondazione Premio Napoli. L'annuncio ufficiale questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco e dell'assessore alla cultura del comune di Napoli. Una nomina che l'amministrazione definisce come un contributo alla costruzione di una cultura trasversale che cerca forme originali e non vuole ripiegarsi sullo straordinario patrimonio già espresso in passato dalla città. Premio di letteratura di lingua italiana ma soprattutto che continui ad aprirsi alla città nei territori, che renda un servizio anche a tutte le biblioteche municipali, che le coinvolga perché i cittadini lettori, che già sono tanti, siano ancora di più e sempre più trovino una relazione con l'amministrazione comunale e col progetto di fondazione Primo Napoli che come sappiamo è promosso e finanziato dal comune, dalla regione Campania e dalla Camera di Commercio e dalla provincia. Professore universitario, scrittore e saggista ma anche traduttore noto per il suo lavoro su Beckett, Frasca ha accolto il nuovo impegno come una sfida che coinvolge l'intero mondo della lingua italiana e dei pericoli che corre in questo momento storico, ponendo anche un particolare ed assai sensibile accento sulla città di Napoli vista con la forza delle espressioni culturali dei suoi cittadini che non sono però soltanto i napoletani. Che Napoli sia stata capitale si nota immediatamente appena si arriva in città, le uniche due città italiane forse che danno immediatamente questa impressione sono Torino e Napoli, una capitale che cos'è? E' un luogo, è una città dove si arriva, una capitale è un centro di attrazione, non un centro da cui si parte e allora dal momento che a Napoli, pochi magari lo sanno, ma effettivamente vivono molte persone che si trasferiscono in città, ma anche dal nord e persino da altri paesi, allora per me ovviamente il premio a Napoli è il premio dei cittadini napoletani, di coloro che vivono a Napoli, ovviamente, per quello che riguarda almeno la caduta delle attività, la ricaduta delle attività che inevitabilmente vengono fatte in città e quindi è chiaro che devono coinvolgere le persone che vivono in questa città, poi per quello che riguarda le opere ovviamente l'apertura è a tutto ciò che proviene non dall'Italia ma dalla lingua italiana, perché magari uno può anche scrivere in italiano e vivere che ne so, in Canada. Difendere una lingua non significa difendere un territorio nazionale, significa difendere semplicemente una grande macchina da cultura, allora noi dobbiamo difendere la grande macchina della cultura Italia.